Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi doppio numero di gigobo d'acciaio, ovvero 33 e 34. La settimana scorsa sono rimasto indietro, quindi recupero in questo video ben due numeri. Diciamo che è anche meglio, perché nel numero 34 ci sta solo un misero pezzettino, mentre diciamo nel 33 c'è la spalla, quindi diciamo che in teoria possiamo andare a montare qualcosa di consistente e iniziare più o meno a vedere il nostro braccio che diventa completo. Quindi apriamo entrambi questi numeri, li montiamo e vediamo fino a che punto si arriva. Allora, iniziamo con il numero 33, i pezzi li apriamo dopo, vediamo qui dentro che cosa c'è. Allora, fondamentalmente abbiamo questo pezzo che già ce l'abbiamo, diciamo sta qua, nell'uscita 34. Poi nell'uscita 35 e 36 avremo sempre parti interne delle braccia, quindi elemento 3D interno e spalla sinistra, ovvero sempre l'interno. Per quanto riguarda il montaggio di questa volta, diciamo, dobbiamo fare questo passaggio, quindi direi di procedere immediatamente. Lo facciamo subito, tanto diciamo che non ne vale la pena aspettare. Quindi prendiamo questo pezzo qui e poi sicuramente dobbiamo, diciamo, mettere da parte le altre parti, come abbiamo già fatto con l'altra spalla. Quindi allora, questo qui, vediamo come si incastra. Ok, dovrebbe andare così. Ah, ok, sto notando che in questo caso qui è un pochino leggero, non si incastra benissimo. E' la prima volta che succede, quindi diciamo che se fosse la stessa cosa anche per voi, vi basterà mettere un minimo di colla. Mentre poi, per quanto riguarda questo pezzo qui, vediamo se in qualche modo risolve. Ora, vediamo subito. Lo andiamo a mettere di sopra in questo modo. Allora, qua chiaramente seguiamo questo disegno e lo incastriamo così. Allora, diciamo che, come vedete, questo continua a essere un pochino morbidino, quindi sicuramente ci metto un goccetto di Vinavil. Poi, diciamo, me lo metto per conto mio. Per evitare, appunto, che si stacchi. Chiaramente poi, qui noi possiamo andare a metterci questo pezzo che già avevamo. E quindi arriviamo a questo punto qua. Questi due pezzi li dobbiamo tenere da parte, perché non li usiamo adesso. Quindi recupero la bustina. Eccola. E li tengo da parte per utilizzarli quando sarà il momento giusto. Come vedete, diciamo, ho già, ho anche gli altri due messi da parte, perché chiaramente sono rimasti inutilizzati anche questi. Eccoli qua. No, dove sono? Eccoli qua. Me li ero persi. Sono qui, quindi abbiamo le parti doppie. Qui abbiamo mano e interno della mano, che andiamo a verificare subito se possiamo usare nel numero 34. Ma non credo, perché diciamo che per attaccare la mano ci serviva il pezzo corretto. Come sappiamo, ci hanno dato la parte sbagliata, quindi diciamo non riusciamo ad usarla adesso. Però, allora, andiamo a vedere. Allora, il pezzo, ok. Buttiamo questo così. E vediamo qui cosa succede. Ah, ok. Nel numero 37 ci danno la mano. Speriamo che sia la parte giusta. Altrimenti poi saranno dolori. Quindi dobbiamo aspettare il numero 37. Invece per questo pezzo qui possiamo metterlo. E in teoria dovrebbe andare poi a bloccare la parte rossa che qualche numero fa, qualche video fa, diciamo, vi dicevo che rimaneva in movimento. Quindi in teoria adesso, mettendoci questo sopra, si dovrebbe bloccare. Infatti, devo solo capire come farlo entrare in posizione perché non mi sta entrando. Forse così, ecco qua. Con un bel cliccone lo mettiamo in posizione e questo rimane così. Quindi, nonostante noi abbiamo già mano interna della mano, per poterla mettere dobbiamo attendere l'uscita 37, dove appunto, avendo l'altra metà, sperando che ci diano quella giusta, potremo poi metterci la parte interna e chiuderla. Quindi, allora, per adesso siamo arrivati a questo punto, come potete vedere, ammesso che vada a fuoco, è già comunque un bel risultato. Anche se purtroppo potevamo avere più cose perché se ci avessero dato il pezzo corretto della mano già potevamo metterla. Però, vabbè, chi se ne frega. Guardate che bello l'interno, diciamo, questa parte mobile. Diciamo che tendo a confermare che non posso motorizzarla perché sarebbe un lavoro incredibile andare a mettere il motore qua dentro. Sarebbe veramente tanto, tanto lavoro, diciamo, piuttosto inutile. Questo se ne rimarrà chiuso così e diciamo che, grosso modo, è la soluzione migliore. Nella gamba c'era oggettivamente più spazio, quindi si poteva fare, invece qua, avendo lo snodo centrale che poi non si può, cioè non gira nemmeno, non riesco a metterci il motore. O meglio, diciamo che teoricamente tutto sarebbe possibile forare qui dentro e metterci il motore, ma non ne vale la pena. Diciamo, sarebbe un lavoro incredibile per poi forse usarlo tre volte, per cui lo lascerò così. A questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale. E non so se avete notato, ma da qualche giorno, diciamo, sono attivi anche gli abbonamenti. Che cosa sono gli abbonamenti? Sono dei modi, diciamo, per contribuire alla crescita del canale con pochi euro, volendo. E chiaramente vi daranno dei vantaggi particolari, che potrebbero essere dal semplice saluto, proprio con il livello 1, fino a chiedermi addirittura di montarvi delle cose o fare dei video dedicati per voi. Quindi dategli un'occhiata, così, senza impegno. E io a questo punto vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao! 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 Ciao!